Anzi, l'io più più, il Filippo più più torno a casa con una rinnovata determinazione nell'affrontare la vita e nell'affrontare problemi, tutto quello che avverrà con un fare molto più giocoso, molto più leggero affiancandomi a quella ombra che mi ha per troppo tempo, per molto tempo mi ha privato di troppe esperienze e mi ha frenato troppo sono estremamente felice, soddisfatto, insomma, ne ho fatto questa esperienza non so come avrei potuto farne a meno grazie Patrizia, grazie a tutti grazie